Il poeta qui presente, il professore Menotti Lerro. La sua presenza ci amichisce l'entusiasmo. Una grande occasione per il Parmenide, per la crescita umana e professionale. Tutto è ambrosio quando la stanza è colma e i pensieri sono rondini. Nella piumite estate le strade s'inebriano d'oro. Si vestono da sposa, audente rosa. La sua presenza ci amichisce l'entusiasmo. 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 La sua presenza ci amichisce l'entusiasmo.